Un caro saluto amici telespettatori, bentornati a questa nuova puntata di Tra Cielo e Terra. Siamo nei giorni della chiusura del Giubileo della Misericordia, domenica prossima il Giubileo sarà chiuso ufficialmente da Papa Francesco in San Pietro, ma le porte sante in tutto il mondo, comprese nella nostra Mantua, si sono già chiuse simbolicamente domenica scorsa. Noi ci troviamo in compagnia del Vicario Generale della Diocesi di Mantua, Monsignor Gian Giacomo Sarzi Sartori, che ovviamente salutiamo, con il quale vogliamo fare proprio un discorso, capire quale sarà il messaggio che questo Giubileo della Misericordia ci lascia, come viverlo e capire anche come si è vissuto questo messaggio nella nostra comunità. E io, Monsignor Sarzi Sartori, partirei proprio da qui. Questo messaggio importantissimo che ci ha lanciato Papa Francesco, come è stato vissuto poi nella nostra comunità diocesana? Il messaggio di Papa Francesco, che ha voluto rilanciare, perché quello della Misericordia è un tema evangelico perenne, ma l'ha voluto rilanciare per questo nostro tempo, della vita della Chiesa, ma anche dell'esperienza di questo nostro mondo, è un messaggio che anche da noi è stato recepito con grande apertura di cuore, vorrei dire, oltre che di mente e di spirito. Di cuore perché la Misericordia contiene proprio nella sua stessa parola il riferimento al cuore, no? Dare il cuore ai miseri. Miseri siamo tutti noi, perché tutti noi siamo bisognosi di amore, di misericordia, di accoglienza, di ascolto, di incontro, di un incontro vero, no? Tra le persone. E questo grande messaggio che il Papa ci ha voluto trasmettere in questo anno giubilare, allora davvero è diventato per noi un'occasione per recuperare alcune parole del Vangelo, alcune parole di Gesù Cristo, che sono l'anima di tutta l'azione pastorale della Chiesa. E quindi dovrebbero essere lo stile dei cristiani, essere misericordiosi, potremmo dire, significa essere dei cristiani che vivono fino in fondo il Vangelo, perché Gesù nel Vangelo ha continuamente parole e gesti di misericordia, quindi di apertura all'altro, quindi di ascolto profondo della persona nelle sue istanze, nelle sue esigenze, nelle sue attese, quindi di anche tentativi concreti di risposta nell'accoglienza, che vuol dire talora perdono, altre volte significa valorizzare l'altro, oltre che se stessi, vuol dire donare, vuol dire non giudicare per condannare, ma cercare le strade per la riconciliazione e anche per il recupero delle cose importanti della nostra vita, che sempre è possibile recuperare, anche per chi sbaglia. E quindi tutto questo stile, questo metodo della misericordia, direi che per noi è stato davvero un messaggio molto importante, anche perché non dobbiamo dimenticare che l'anno della misericordia si è aperto e si è svolto in gran parte per noi della Chiesa Mantovana, mentre si svolgeva pure il nostro sinodo diocesano, per cui il sinodo diocesano aveva come titolo e tema vogliamo vedere Gesù, e il Papa è come se ci avesse risposto vedetelo e incontratelo nella sua misericordia e diventando anche voi misericordiosi come il Padre. Questo era il titolo, lo slogan dell'anno della misericordia appunto. Come continuare a vivere il messaggio del Giubileo e soprattutto voi avete dato delle indicazioni ad esempio alle parrocchie? Sì, noi abbiamo scritto alle parrocchie una nota pastorale proprio in occasione della chiusura del Giubileo della Misericordia il 13 di novembre scorso, in cui si voleva sottolineare anche qualche aspetto da portare avanti per non chiudere l'anno della misericordia nel senso della sua tematica, la quale invece non si chiude ma rimane permanentemente nella vita della Chiesa. Si è chiuso il tempo dell'anno giubilare ma non si è chiuso e non si potrà mai chiudere per noi cristiani il tempo della misericordia. Quindi ai sacerdoti e alle parrocchie abbiamo inviato una nota che è stata condivisa con il Vescovo e il quale ci ha tenuto proprio a far conoscere anche tre, quattro aspetti in concreto. Innanzitutto si è chiesto ai sacerdoti di mantenere viva e di custodire la memoria di questo Giubileo della Misericordia nella predicazione e in tutte le forme di evangelizzazione. Come a dire che nel nostro annuncio del Vangelo, della parola, dobbiamo soprattutto concentrarci proprio su questo nucleo fondamentale che è la misericordia di Dio ed è il volto della misericordia che Dio ci ha dato che è Gesù Cristo. Quindi concentrarci di più sulla figura, sulla persona di Gesù. Poi ecco, una pastorale penitenziale più attenta. Quindi l'esperienza della misericordia di Dio attraverso anche il sacramento della misericordia che è la confessione da riscoprire, da rimotivare, da rilanciare, anche da illustrare, da comunicare, vorrei dire, nei suoi contenuti più profondi. Il Papa ci sta insegnando continuamente che Dio non vede l'ora di perdonarci tutti, no? E di accoglierci tutti perché non si stanca mai di perdonare, mentre noi tante volte ci stanchiamo di chiedere il suo perdono che invece vorrebbe darci con totale sovrabbondanza e ricchezza di amore. Poi abbiamo sottolineato un altro punto importante, cioè custodire la memoria del Giubileo e mantenere viva l'attenzione sulla misericordia nella recezione di quel grande documento del Papa che è la Moris Letizia, cioè quel documento sulla famiglia e sul matrimonio che è stato il frutto di due sinodi della Chiesa. Il Papa tiene molto questo tema della famiglia e ci ha donato un testo ricco, ampio, complesso nel quale si invitano tutte le comunità cristiane a riprendere in mano tutte le questioni inerenti al matrimonio e alla famiglia, ma soprattutto in una chiave positiva, no? Puntando su questo grande tema che sottostà e che deve animare tutte le questioni, anche le più delicate. l'amore, la gioia dell'amore tra le persone, no? Quindi tra due sposi, in una famiglia e quindi qui c'è da mettere in atto molta misericordia, molto stile di misericordia e quindi educare le comunità anche all'accoglienza di tutte le situazioni umane e spirituali che hanno a che fare con le questioni familiari. E poi nel rendere pastorale la misericordia, cioè fare in modo che il tema della misericordia possa informare, dare forma, plasmare un po' tutte le strutture pastorali della Chiesa e della nostra Chiesa in particolare. Alla luce anche delle riflessioni che abbiamo fatto e delle indicazioni che lei ci ha fornito, indicazioni appunto per le comunità parrocchiali, quale può essere il messaggio per i fedeli mantovani per poter continuare a vivere appieno questo messaggio della misericordia in quella che è la nostra quotidianità, nella vita di tutti i giorni? Penso che il messaggio fondamentale si possa concentrare in quella parola che Gesù ci ha detto e che ci fa recuperare un po' tutto il messaggio evangelico, cioè Dio è un padre ed è un padre misericordioso. Noi dovremmo custodire nel cuore sempre questa immagine del Dio cristiano, di un Dio che non è più semplicemente il creatore del mondo, anche se lo è, il creatore dell'uomo, anche se lo è, certamente, fa parte della nostra fede, un Dio che si è manifestato nella storia di Israele, come ha fatto, ma un Dio che è quello che ci ha rivelato e ci ha fatto incontrare Gesù Cristo, il padre misericordioso che accoglie sempre i suoi figli, che siamo tutti noi, in qualunque situazione noi veniamo a trovarci, anche le più dure, le più difficili, le situazioni di lontananza nelle quali tante volte l'uomo si pone, Dio è sempre pronto a recuperarci al suo amore e in questo è misericordioso e quindi è onnipotente soprattutto perché è misericordioso, quindi è in grado sempre di riabbracciare i suoi figli, che siamo tutti noi, e quindi non dobbiamo mai temere questo Dio, perché Gesù ci ha insegnato non a temerlo, ma a lasciarci incontrare come Lui vuole fare. Se noi capissimo fino in fondo questo grande mistero, che però è la rivelazione cristiana, credo che si spalanchierebbero porte, si aprirebbero strade, saremo nella capacità, nella possibilità di nuovi inizi, sempre nella nostra vita. Bene, noi ringraziamo Monsignore Gian Giacomo Sarsi Sartori per queste sue preziose riflessioni, per queste sue importanti indicazioni. Adesso cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre a parlare di qualcosa di importante, della realtà della nostra Chiesa. Tra l'altro il Giubileo l'abbiamo visto tante volte, si è concretizzato, si è tradotto anche in tante iniziative sul nostro territorio. A proposito di progetti, di iniziative concrete, c'è una realtà molto importante nella Chiesa, molto vicina ai giovani, che si occupa proprio concretamente di loro. Parliamo dell'associazione ANSPI e noi adesso andiamo a conoscerla. Un saluto a tutti, questa seconda parte della puntata di Tra cielo e terra è dedicata, come detto, all'ANSPI e noi ci troviamo nella sede dell'associazione in compagnia del presidente Don Giampaolo Ferri, a cui chiedo innanzitutto, l'associazione nazionale San Paolo Italia, di che cosa si occupa? L'associazione si occupa anzitutto di oratori e dicendo oratori parliamo di ragazzi, di giovani, ma non solo perché l'associazione si occupa anche di famiglie e di anziani, insomma tutto il mondo che ruota attorno alla comunità cristiana e per il quale l'associazione è nata e ogni giorno lavora nel territorio mantovano. Come opera l'associazione e qual è la sua mission? Certamente la mission della nostra associazione è l'educazione, quindi affiancare le parrocchie nel loro impegno educativo e quindi tutto ciò che sa di educazione, di accompagnamento ad un'umanità socializzata, una umanità solidale, sono le azioni che vengono sostenute, promosse e accompagnate dalla nostra associazione che diventa anche momenti di divertimento, momenti di incontro, momenti di dibattito, di riflessione, ma anche di svago, di gite, di sport e di festa. Un'associazione, poi ne parleremo in modo più approfondito, che vede protagonisti giovani. Un sacco di giovani sono infatti tra i fautori della nostra associazione anche e penso soprattutto nei consigli direttivi che sono composti appunto da laici, sono molti anche i presidenti molto giovani, under 30, sono parecchi, penso in particolare a Cavriana, a Guidizzolo, a Villa Poma, quindi sono davvero tanti che credono nel contesto dell'associazione, che credono nel lavorare con gli altri e per gli altri in una maniera sempre più sinodale, ecco per non dire democratica. Per quanto riguarda i numeri, quante sono le sedi sul territorio? In questo momento abbiamo attive 42 sedi su tutta la provincia di Mantua con un numero di circa 12.000 tesserati. Questo è un bellissimo segnale che ci fa ben sperare anche perché alcune nuove realtà già si affacciano a chiedere di avere vita, di essere aperte e quindi questo ci fa appunto ben immaginare un futuro ancora più ricco e più vivace sull'intero territorio. La sede zonale, provinciale, è qui nel centro pastorale Carlo Ferrari della Diocesi, anche perché l'associazione Anspi lavora a braccetto, potremmo dire, con il centro di pastorale giovanile della Diocesi e quindi ci sembrava opportuno che anche dal punto di vista logistico noi fossimo nella stessa vedesima sede. Lavoriamo insieme, stessa missione per cui ci sembrava molto bello esserci. Entriamo più nel dettaglio dell'associazione con Don Andrea Grandi che è consigliere provinciale dell'Anspi. Come si muove sul territorio? Quali sono le azioni che l'associazione mette in campo? Il consiglio provinciale in questi anni si è dato da fare nel senso che ha girato i vari circoli, li ha visitati per capire un po' le situazioni del territorio e anche le esigenze. In più il consiglio provinciale mette a disposizione una cifra annuale che aiuta i vari circoli nei vari progetti di formazione piuttosto che di aiuto concreto nei vari progetti dei circoli. Iniziative che coinvolgono diversi campi, dall'arte allo sport, quali sono gli ultimi progetti messi in campo dall'Anspi? Gli ultimi progetti sono parecchi, riguardano soprattutto la formazione degli educatori dell'oratorio ma anche bambini e ragazzi nello sport, piuttosto che mostre d'arte, piuttosto che miglioramenti anche materiali dei vari circoli, dei vari ambienti. Insomma ci sono tantissimi progetti che rinnovano sempre l'impegno dei vari circoli. Tra le azioni dell'Anspi più importanti che coinvolgono il maggior numero di giovani sul territorio c'è sicuramente il Grest. Senz'altro. Il Grest è la parte per noi del cuore pulsante e dell'operatività di questo ufficio. Qui abbiamo l'occasione veramente di incontrare sul territorio la maggior parte degli oratori e con loro le persone che vivono l'oratorio nella fase estiva. Partiamo dalla progettazione già nell'inverno con la scelta del tema per quanto riguarda il Grest e poi c'è tutta una serie di momenti che per noi sono molto importanti a partire dalla presentazione del Grest che avviene in una giornata o in serata e questo coinvolge principalmente noi della segreteria ma poi diversi giovani sono coinvolti insieme a noi allo strutturare, alla progettazione, proprio l'ideazione della giornata stessa. Perché non vogliamo che sia una semplice vetrina per la presentazione di sussidiazione e altro e del materiale ma soprattutto vogliamo far vivere un'esperienza a questi responsabili che poi a loro volta vivranno i loro oratori insieme ai tanti ragazzi che nell'estate vivacizzano gli oratori. I giovani sono all'incirca 3.500-3.600 generalmente le attività sono quelle di creare il gioco, la relazione con i più piccoli e qui la massima espressione la portano i ragazzi con la loro creatività e con il loro talento perché partendo dal tema proposto poi hanno l'occasione, la possibilità di sviluppare personalmente a seconda dell'esigenza del territorio come meglio loro credono insieme ai loro responsabili l'attività stessa. Quali sono i temi che avete proposto in questi anni per fare qualche esempio? Allora partiamo da Everybody che era la tematica sul corpo abbiamo l'altro anno trattato il tema della tavola e quindi tutta la relazione col cibo e l'anno scorso avvincente la tematica del viaggio veramente per noi è stata una soddisfazione poter creare e ricevere anche critiche costruttive per la realizzazione della presentazione. Le critiche ci servono per migliorarci e quindi siamo ben contenti di ricevere senz'altro i complimenti ma anche le critiche per poter far meglio l'anno successivo. Come rispondono i giovani a queste attività che voi proponete ma soprattutto qual è l'importanza di un coinvolgimento per un lungo periodo? Guardi sinceramente la possibilità per un giovane di vivere attivamente l'oratorio è molto importante perché si dà loro una grande responsabilità accompagnare i bambini tutti i giorni dalla mattina alla sera spesso nell'oratorio e con le attività, le gite eccetera non è una cosa da poco chiediamo a loro molto ma loro hanno molto da dare è bellissimo trovarli nei pullman sui mezzi pubblici il mattino con la loro maglia che li identifica come l'animatore e loro la portano fiere e orgogliosi per cui la soddisfazione più grande per noi che lavoriamo materialmente qui è quella di poter vivere e vedere vissuto questo grest e restiamo in tema di oratori perché parliamo di un progetto specifico rivolto ai giovani cofinanziato da Regione Lombardia di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto che si chiama Progetto Giovani Insieme che è nato dalla collaborazione tra gli oratori delle diocesi lombarde con la Regione Lombardia è stato pensato per gli oratori con l'intenzione di fornire agli oratori una figura educativa che fosse stabile e che potesse in qualche modo aiutare lo sviluppo delle attività che nell'oratorio si svolgono e quindi poter creare attività nuove e sostenere le attività già esistenti e in questo modo quindi sostenere gli oratori e siamo già in corso di terza annualità e la risposta è buona e sembra che questo progetto possa effettivamente raggiungere gli scopi prefissi Quali sono le nuove attività che hanno affiancato quelle già esistenti? Beh, in questi tre anni abbiamo visto molte attività nascere sul luogo in cui i ragazzi sono stati inseriti in particolare abbiamo visto nascere dei doposcuola che ospitano i ragazzi anche soprattutto nel periodo infrasettimanale quando gli oratori normalmente non sono molto movimentati diciamo e sono stati creati attività serali sono stati creati nuovi gruppi possibilità di aumentare le attività del periodo magari domenicale oppure il pomeriggio del sabato che sono quelle più frequentate e sono stati fatti molti miglioramenti anche agli ambienti ristrutturazioni, sistemazioni di teatri già esistenti magari i campini è stata data la possibilità appunto di migliorare anche le strutture avendo appunto a disposizione delle figure più stabili e che potessero investire insomma il loro tempo in modo più intenso nell'oratorio e nelle proprie parrocchie questa puntata di Tra Cielo e Terra termina qui l'appuntamento come sempre è tra sette giorni grazie per averci seguito arrivederci a presto grazie per aver guardato il video